Ciao! Volevo farvi un annuncio. Volevo dirvi che il 12 giugno è la celebrazione dell'esistenza. Eh sì, io ci sarò. Vuoi venire anche tu? Dove? Ovunque? A fare cosa? Quello che sai. Puoi farti un selfie dove anche solo sorridi. Oppure puoi raccontare una poesia, puoi mostrare la tua opera d'arte o puoi leggere un brano che ti piace. Puoi anche solo farti vedere o mostrare un buon piatto. Comunque esserci. Ecco, 12 giugno per esserci. E poi alla sera non dimenticare di accendere una candela davanti alla finestra. Lo faremo tutti. Fallo anche tu. Ciao, ciao, ciao. Existence Celebration Day Celebration Day Existence Celebration Day Celebration Day